Consigliere Pignori, da lei e dal consigliere Berardino Fiorilli arriva una proposta, una richiesta all'amministrazione comunale e al sindaco Masci di ripristinare i buoni spesa per le famiglie bisognose. Voi fate anche una proposta in tal senso? Sì, io e il collega Berardino Fiorilli siamo stati in queste settimane, come penso anche gli altri consiglieri comunali, assessori, tempestate di richieste di telefonate per il ripristo di buoni spesa. La situazione è gravissima in città, in Italia e soprattutto prendendo spunto, le persone mi facevano notare che questi buoni vengono comunque stati già erogati o stanno in via di emissione dai comuni limitropi, Francavilla, San Buceto o meglio San Giovanni Tiatino e altri comuni. Quindi si chiedono la motivazione per cui il comune di Pescara non rimette questi buoni spesa. Non dico per Pasqua perché ormai i tempi sono strettissimi, ma quantomeno in prossimità anche dopo le festività di Pasqua o Pasqua non Pasqua, le persone hanno sempre bisogno di questi buoni spesa. Per cui domani io e il collega Berardino Fiorilli proteggeremo una lettera al sindaco Masci nel quale chiederemo il ripristino ovviamente di questi buoni spesa perché in questo momento storico le istituzioni devono essere ancora più vicine ai cittadini. Già lo siamo di per sé durante gli anni quando in Italia si viveva bene, anzi meno bene, ma sicuramente meglio di oggi che c'è la pandemia in atto. Per cui dobbiamo dire, dobbiamo intervenire necessariamente ancora di più. La nostra presenza deve essere ancora più capillare nel territorio. C'è bisogno di intervenire e il collega Berardino Fiorilli, da sempre vicino alle periferie e le famiglie bisognose della città, abbiamo in animo di fare questo. E ovviamente la proposta quale sarebbe? Perché tutti quanti dicono Comune di Pescara non ha soldi. La proposta potrebbe essere eventualmente di un mese di non erogazione di stipendi da parte ovviamente del Comune nei confronti dei consiglieri, assessori, sindaci, vicesindaco e quant'altro. E anche eventualmente se uno potesse anche per i dirigenti però ovviamente lì c'è l'aspetto ovviamente della volontarietà del dirigente nell'intervenire in questa casa comunale. Ecco, io dico che già con questo sforzo si riuscirebbe a recuperare dei bei soldini. Però io ritengo che in bilancio, siccome ormai sono 15 anni che abbiamo in consiglio comunale, i soldi ci sono, li ho letti e quindi c'è solo la volanda politica di volerli fare.